Io intervengo soltanto per dire che ovviamente la delibera è passata in commissione urbanistica per l'espressione di parere e che la commissione ha espresso parere favorevole, così come lo esprimeremo oggi in aula a questa propedeutica, che sostanzialmente come abbiamo evidenzato in commissione non riporta modifiche rispetto all'anno precedente, quindi anche negli allegati alla delibera le tabelle sono sostanzialmente identiche a quelle dell'anno scorso per cui non vengono aggiunte nuove aree ovviamente perché non sono stati adottati nuovi piani di zona. È una delibera quindi che in maniera di consuetudine ovviamente deve essere allegata al progetto del bilancio previsionale e quindi noi esprimeremo parere favorevole. Grazie.